Come decomprimere i file online? Vai su EasyZip.com, clicca su Decomprimi, quindi FileZip. Clicca Seleziona il file zip da estrarre per aprire il selettore dei file. Inizierà l'estrazione del file e verrà elencato il contenuto del file zip una volta completato. Fai clic su Salva sui singoli file per salvare il file sul tuo disco locale. Fai clic su Consenti per consentire un facile accesso zip ai file durante l'utilizzo del sito web. Ora hai finito. Tutti i tuoi file sono decompressi. Spero che aiuti. Metti mi piace e iscriviti per rimanere aggiornato.